ma uno ha i pasticci li deve fare questo dato di fatto ok questo proprio è un oggi che faccio pasticci e pasticci questo devi pensare allora quello che è successo è che qui hai inciso un po troppo le nervature diciamo è tenuto un po e poi ti hai secondo me hai allargato anche un po troppo mi sono su qua sono arrivata in alto poi dopo che è finito tutto ma come ho fatto a cambiare la forma del bianco sai che cosa mi ha un po che ho creato problemi perché ho passato la bandita bianca sul bordo esterno dopodiché non riuscivo più a correggerla a quel punto perché la bandita bianca è sì ma la forma è una cosa assolutamente secondaria che te ne importa aspetta un attimo ok ok allora se tu prendi sì tanto vado un po alla cieca tanto lo sto facendo un po poi lì non sapevo che colore metterlo quel colore della parte centrale dei pistilli vari che ci sono all'interno non riesco non riuscivo proprio a capire che cosa che colore ci dovevo mettere per dare un senso di vedi bianco no la parte colorata quella sembra rossa ma rossa non è è così è questo vediamo un po se adesso ecco prodotto così c'è un qualche riferimento visivo ok allora intanto hai fatto linee invece che cosa che non ti conviene ho fatto linee dove qui hai fatto un sacco di linee non ti conviene che col bianco tu se tu fai linee diventa grafico lo vedi sì sì quindi devi lavorare con poca intensità e per esempio qui puoi schiarire se tu schiarisci questo vedi poi qui per esempio ce n'è e tu peraltro tu hai fatto abbastanza non hai avuto paura di fare troppo poco hai fatto troppo poco in qualche maniera non troppo poi se la forma non è la stessa devo dire che anche qui qui ci vuole bello forte qui ci vuole il bianco vedi sì quelli ce l'ho anche passato ma come se non si notasse e beh devi dargliene ancora guarda che con le matite che hai questa cosa qui si fa anche qui dovresti darglielo vedi sì la luce certo comunque fatto questo nel caso addirittura qui io tanto questo andrebbe più bianco qui io avrei mesco perché se tu metti il bianco qui lo mescoli mi segui no non ho capito cosa se tu metti il bianco dove c'è il dove c'è il rosa sì lo mescoli si mescola il bianco vedi sì sì fai così no a questo punto niente a questo punto va da sera anche qui ce ne vuole di più vedi certo qui te lo puoi schiarire un po' allora tanto andato per andato dopo vedo un po' che viene certo studiatelo poi cambia soggetto perché questo è veramente un soggetto complicato complicato poi questo però vedi che non è che viene cioè oltretutto guarda qui c'è luce qui proprio piega vedi tutta questa zona sì piega piega qui anche piega e prende la luce qui la prende tu le hai viste pure queste cose come dire sei andata troppo cauda probabilmente dovevi lavorare con un colore più tenue